Musica Abbiamo svolto un lavoro in classe che consisteva nell'animare uno o più oggetti sul foglio. Poi dovevamo sonorizzarli a casa con un programma di nome Audacity che ci ha consigliato la professoressa di musica. Musica Abbiamo fatto dei disegni sia astratti che non astratti e poi abbiamo animato. I prof hanno fatto delle foto ai cambiamenti dei disegni e poi hanno montato queste foto in un video. Musica Ciao sono Orlando, ho 10 anni e finalmente sono entrato su questo fantastico sito Audacity di Muzica. dove con una sequenza di suoni li unirò a questa registrazione così formerò una specie di composizione. Musica 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 Abbiamo fatto delle forme che dopo abbiamo dovuto muovere sotto la telecamera per fare un piccolo film di animazione. Abbiamo visto dei film di animazione fatti gli anni scorsi da altre classi. Poi i prof ci hanno dato un foglio diviso in quattro parti e ci hanno detto che dovevamo disegnare degli storyboard. Poi ci hanno fatto inventare una storia con tanti rumori e ci hanno detto di portare vari materiali per rendere il lavoro più colorato e realistico. Infine abbiamo scattato le foto alternando le scene. I prof monteranno le varie foto in sequenza con l'aggiunta dei suoli per ottenere un film in stop motion. Grazie a tutti. Grazie a tutti.